Numero 5. Dyson Purifier Coolink TP02 è un purificatore d'aria di alta qualità che vi stupirà con le sue prestazioni. Grazie alla sua modalità automatica, può coprire stanze fino a 81 metri quadrati, garantendo un'aria fresca e pulita in pochi minuti. Inoltre, è dotato di una modalità di ventilazione che lo rende perfetto anche nei mesi più caldi. Il punto forte di questo prodotto è sicuramente la possibilità di controllarlo da remoto tramite l'app dedicata, rendendolo compatibile con assistenti vocali come Alexa e Siri. Il display informativo dettagliato vi fornirà tutte le informazioni necessarie e potrete scegliere tra la modalità sola ventilazione, notturna e l'oscillazione automatica. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 4. Il purificatore d'aria Dyson Purifier Cool Auto React TP7A è il compagno ideale per chi vuole respirare aria pulita e fresca in casa. Grazie alle sue modalità completamente automatiche e alla capacità di monitorare costantemente la qualità dell'aria, questo prodotto garantisce un ambiente sano e privo di allergeni e cattivi odori. Uno dei punti forti più apprezzati è la funzione di attivazione automatica quando l'aria peggiora, che consente al purificatore di agire in modo tempestivo per migliorare la qualità dell'aria. In descrizione trovi il link di questo prodotto. Numero 3. Dyson Purifier Cool Me è il purificatore d'aria perfetto per coloro che cercano un prodotto elegante e di alta qualità per la loro casa. La sua modalità manuale permette un flusso d'aria di 257 litri al secondo, mentre l'oscillazione automatica garantisce una diffusione uniforme in tutta la stanza. La modalità notturna è ideale per una notte più fresca e silenziosa. Anche se è adatto solo per locali piccoli, il sistema di purificazione è efficace e il filtro al carbone attivo aiuta a rimuovere le impurità. L'indicatore di qualità dell'aria e l'avviso di cambio filtri assicurano una manutenzione semplice. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 2. Il Dyson Purifier Cool Formal Deaccaid TP09 è un prodotto di alta qualità che promette di migliorare la qualità dell'aria all'interno delle abitazioni. Grazie alla sua modalità automatica, con un flusso di 290 litri al secondo e la possibilità di utilizzarlo anche come ventilatore, garantisce una pulizia costante dell'aria, adattandosi alle esigenze dell'ambiente circostante. Uno dei punti di forza di questo purificatore è il filtro catalitico per la formaldeide, una sostanza chimica nociva presente in molti materiali di arredamento. Inoltre, è possibile controllare il purificatore da remoto tramite l'app dedicata, rendendo l'utilizzo ancora più comodo e pratico. Se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione. Numero 1. Il Dyson Purifier Cool TP07 è un purificatore d'aria che offre una modalità automatica con un flusso di 390 litri al secondo e una modalità ventilazione. Si distingue per il dettagliato display informativo che fornisce informazioni dettagliate sulla qualità dell'aria. Inoltre, dispone di una modalità notturna, oscillazione automatica e una modalità sola ventilazione. Tuttavia, il prezzo elevato potrebbe essere un punto debole. La scheda tecnica mostra le sue caratteristiche, come la copertura di 47 metri quadrati e il filtro a carboni attivi. Con una rumorosità di 61,5 dB e un assorbimento massimo di 40 Watt, le sue prestazioni sono valutate con un punteggio medio di 7. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione.